Vuoi tenere il resto, Carla? Natalia, ti ho portato un caffè. Grazie. Come sta andando? Guarda, lasciamo perdere. Cioè non ho avuto neanche un cliente oggi e gli altri sono pieni di turisti. Dai, non te la prendere. La gente si deve ancora abituare all'idea di una gondoliera. Non lo so, non so, mi sento così stupida. Forse ho sbagliato tutto. Grazie. 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 Grazie.